Il manco lo guarda, ci rimane male, il manco lo saluto a lui a me non lo faceva. Ecco la panna, ecco la panna. C'è chiacchiera questo, l'altro po' di questi farfalloni, capito, che chiacchiera. Sembra che... non me so voluto... Portogliella non si sa mai. E lei, la panna è buona dei cuori del... Poi vuole proprio bene il fuoco, perché se vedo lei è stanca, o andiamoceno fuori, io ti preparo io. E lui lavora, e tanto vuole farla lavorare meno. Lui lavora per fare la stampa in Genova, e confruttamente come il pappo lì c'è. Quindi vado da lei? No, no, sono stati giocati. Poi, non creda che abbanno... Non so, non so. Non so non c'è, ma... La calchica... E la calchica. È tutta stessa, eh? Come stiamo costruendo il mare? Non so, adesso? Non so, non so. No, non so. Non so, non so. Non so, non so. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti